Beh Bella ragazzi cos'è che noi oggi siamo attrati sul mio canale con un nuovo appuntamento insieme a jack bella e oggi Oggi siamo qua a fare una sfida che consiste nello spiaccicarci un piatto di panna ogni gol che andremo a subire Raga questa qua è la panna e quindi ragazzi raggiungiamo i 7000 mi piace se volete un'altra sfida io mi sono preso al pari san germain lui si è preso a madrid Porco zungolo Gattetto Ahahahahah Vai raga ho già capito che qua devo beccarla io eh? Il primo piatto Rovescala Uss cannella E' partito lui Ma dove vai marcello Ohhhhhhhh É volato Lo vede è partito Passaggio che non è Oh c'era il nuovo e l'hai preso incredibile Ahahahahahah Io 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 Matuudi bomba a tuttiti bravo No dai arbitro Bravo Matuudi E' rigor E' rigor oh mamma mia vai ma no ma no ma come cazzo va a sbagliare un gol così complimenti per la scarsezza ma ha sfottuto ragazzi ma non a te mi ha sfottuto ragazzi è rigore è rigore è rigore andiamo oh jack se me la pare mi mi canto no no sii allora raga qua c'è il piattino sembra un porno allora raga guardate che bello io vado piano dai via vado no guarda niente stavo male questo è il mio joystick come cazzo ne ho so guarda guarda il letto scusate non spiegate come faccio a giocare così sto male raga basta sto male guarda il letto dai tutto qua no cazzo si fa tornare chichicez che sia tazza pasna faca di che schifo czy schifo ? Šte da solo ista da solo è mamma mia Cioè, era da solo, era da solo Dai, basta, basta Cioè, ragazzi, ho lasciato un sacco di piccoli per questa sfida Ok, pronto? No 3 Aspè, aspè, aspè Non vorrò andare lì Vai, vai, metto qua 3 Chiudi io Perché brucia 3 2 Vai No, vabbè, dopo dobbiamo far vedere il pavimento Aspè Oh Eh? Che cosa? Allora, ragazzi, si riprende Qua dietro, qua non potete vederlo Se poi lo facciamo vedere Sì, si entra in mia mamma, sono un uomo morto Proprio schifo Poi spura Cioè, voi non potete sapere cosa vuol dire spura Cosa vuol dire? Non lo so, no, io Cosa vuol dire? Cosa cazzo dici? Sei di pane? Madonna mia, che passaggio Vuol dire che è prude Capito, ragazza, spura Spura Sto sliquidando F***a, che schifo di odore È vero È lui È lui È rigore È rigore È rigore È rigore Un altro Un altro All'ultimo, l'ho spostato All'ultimo 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 Mamma mia Ragazzi Che schifo Voi, sei pronto? Chiudi gli occhi 3 Porca che ho fatto male Cazzo E va a cadere E va a cadere come scivolo Ancora lui Mi brucia l'occhio Mi brucia l'entrata nell'occhio L'entrata dell'occhio L'entrata dell'occhio Oddio 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 Che cazzo ho fatto con un occhio chiuso Allora, ragazzi Il terzo piatto è per lui? Sono felice Canto Vai Si fa Dai, oh Vai, vai Olè BOOM Ma Perché io mi devo far corrompere A far Sì Fai schifo Olè Se ne va Fai schifo Vai cagare Come prendere dei salvettoni dopo Non lo taglio questo Non lo Non la taglio questa parte Allora ragazzi La parete è giunta al termine È finita 3 a 1 per me Le facce sono queste Vai che È un odore incredibile Quindi ragazzi Allora Mi raccomando Riusciamo ad arrivare a 7000 like Dov'è la cagliata Quindi mi raccomando Noi contiamo sul vostro supporto Come detto anche in inizio il video ragazzi Mi raccomando Fateci sapere anche qui sotto Nei commenti Altre sfide da fare Sempre con Jack Inoltre vi invito a passare Dal suo profilo di Instagram Che troverete qui sotto In descrizione Che sta per arrivare a 30.000 iscritti Giusto Si con carna Siamo a 22.000 22.000 Quindi dobbiamo pomparlo Niente ragazzi Io vi ringrazio Per aver guardato questo video E vi saluto Però lascio fare l'outro Naturalmente al vostro esetto Perché Non è mio il canale Quindi Come sempre ricordiamo di lasciare un piccolo mi piace Un piccolo commento Un saluto nell'abbraccione Ciao campioni Bella